Gian Piero Mughini, una volta concorrente e ora commentatore esperto, ha dato il suo punto di vista su Perla e Beatrice, le finaliste del Grande Fratello Parlando con familiarità delle meccaniche del reality e del pensiero della gente, Mughini ha condiviso le sue osservazioni in una lettera aperta Gian Piero Mughini non si tiene più. Vi dico cosa penso di Perla Dopo essere stato uno dei primi a lasciare la casa, Mughini ha trovato la sua nicchia nel ruolo di osservatore critico, a volte preferito addirittura a Cesara Buonamici dagli affezionati del programma Alfonso Signorini, il conduttore, non ha perso occasione di chiedere il suo parere sugli eventi nella casa di Cinecittà Non mi aspettavo certo di finire in un contesto del genere, ha iniziato Mughini, ricordando la sua chiamata al Grande Fratello, una sfida inaspettata ma accettata Con sorpresa, ha poi parlato del risultato della finale, dove la giovane Perla ha vinto contro la più esperta Beatrice, la favorita di molti Beatrice è una donna vera e vissuta, ha dichiarato Mughini, indicando come la maggioranza dei partecipanti stessero ancora cercando la loro strada Perla, invece, è vista come il prodotto di un tipo di televisione più orientato all'intrattenimento Forse più a suo agio con la natura spettacolare del programma, avendo già partecipato a Temptation Island Il critico ha sottolineato un abisso, tra la maturità di Beatrice e la figura televisiva di Perla, suggerendo che l'identità mediatica di quest'ultima potrebbe aver influenzato il pubblico, specialmente quelli abituati ai reality show Infine, Mughini ha espresso un certo disappunto sul fatto che il pubblico sembrasse meno incline ad apprezzare la sostanza e l'autenticità di Beatrice, una donna che rappresenta la realtà quotidiana e non la televisione Con un pizzico di amarezza, l'autore ha messo in dubbio la preferenza del pubblico per le storie sentimentali di Temptation Island rispetto alla realtà più concreta e sfaccettata di una persona come Beatrice, concludendo che forse non tutti cercano la veridicità e la profondità nei concorrenti di un reality show